Ciao a tutti, come va? Oggi mi trovo praticamente in riva al mare e vorrei parlarvi di un'espressione molto comune, molto usata da noi italiani, che è l'espressione ti raccomando o mi raccomando. Normalmente, in linea generale, questa espressione è seguita da un verbo, da un'altra frase, e serve per fare una richiesta, un'esortazione o dare un consiglio. Vi faccio degli esempi, come al solito. Ti raccomando di chiudere la porta, oppure ti raccomando di non dire questa cosa a nessuno, ti raccomando di fare silenzio, ok? Sono tutte esortazioni, richieste, ti raccomando, quindi chiedo a te, esorto te a fare qualcosa, chiedo a te di fare qualcosa, ok? Anziché ti si può trovare anche il vi, quindi raccomando a voi, quindi chiedo a voi, esorto voi, ok? Sempre a fare qualcosa, ok? O eventualmente a non fare qualcosa. Quindi richiesta, esortazione. Poi, io vi dicevo, si trova molto spesso, addirittura più spesso, l'espressione mi raccomando. In questo caso l'obiettivo dell'espressione è lo stesso, quindi il mi raccomando si usa sempre per fare una richiesta, un'esortazione, ad esempio, facendo gli esempi di prima, quindi mi raccomando, non dire niente, mi raccomando, non dire a nessuno questa cosa, mi raccomando, chiudi la porta, ok? Quindi l'obiettivo è sempre lo stesso, fare una richiesta, un'esortazione, ma attenzione, si dice mi raccomando. Quindi questo mi non sta ad indicare la persona a cui facciamo la richiesta, perché questo mi rappresenta me. Infatti in questo caso si usa il verbo raccomandarsi e non il verbo raccomandare. Il verbo raccomandarsi che è la forma pronominale del verbo raccomandare. E cosa significa nel dettaglio, letteralmente, mi raccomando? Significa mi affido a te o mi affido a voi, ok? Quindi mi metto nelle mani tue, confido in te, ok? Quindi questo è il significato. Quindi quando dico mi raccomando, non dire a nessuno questa cosa, quindi mi sto affidando a te, mi fido del fatto che tu non dici a nessuno questa cosa, ok? Quindi due espressioni, ti raccomando, mi raccomando, per indicare alla fine la stessa cosa, quindi per fare una richiesta, per fare un'esortazione, ok? Ma attenzione, questo mi raccomando ha una forma, ha un senso più intenso, una forma rafforzata, ok? E potrebbe sembrare anche quasi un ordine, ok? Questo mi raccomando è una forma più forte, ok? Ed è usata soprattutto nel linguaggio colloquiale, ok? Quindi in un contesto più formale non si utilizzerà mi raccomando, ok? Bene ragazzi, insomma da questa splendida serata qui in Riva al Mare è tutto. Vi ricordo, dal 22 al 26 di agosto, la seconda settimana, Vuoi apprendere italiano? Quindi una settimana per chi vuole imparare o per chi vuole migliorare i suoi risultati con l'italiano, ok? Spero che sia chiaro, spero che vi piaccia, aspetto come sempre i vostri commenti, ci vediamo presto, ciao!